E allora è giunto il momento di tornare a San Giovanni Rotondo e di rivivere questo momento particolare che esattamente 60 anni fa vedeva raccogliersi sul Sagrato di Santa Maria delle Grazie tantissima gente per onorare e omaggiare Padre Pio che riceveva dalla RAI, Radio Televisione Italiana, la stellina d'oro. Per celebrare questo anniversario di cui siamo molto felici, oltre che Maria Pia Picciafuoco che è già dall'altra parte dello studio, abbiamo il piacere di avere con noi anche il responsabile della sala lettura Padre Pio, Antonio Villani. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno, grazie e bentrovati. Prego, accomodati. Oggi ti ruberemo qualche minuto ai tuoi compiti perché la tua presenza è preziosa ed è importante perché se possiamo parlare di questo anniversario è proprio perché nella sala di lettura Padre Pio c'è un archivio storico di tutte le copie della Casa Sollievo della Sofferenza. Il periodico che ha seguito, potremmo dire quasi dagli inizi le vicende dell'ospedale è che è stato uno strumento indispensabile per farla crescere e per raccontarla a tutto il mondo, Padre Pio vivente. È vero Antonio, la Casa Sollievo della Sofferenza, il periodico Casa Sollievo della Sofferenza è appunto uno strumento che viene attivato mentre Padre Pio è ancora vivo. Beh sì, è nato nel 1949, giù in biblioteca c'è la raccolta completa quindi dalla 49 ad oggi ma non soltanto la Casa Sollievo della Sofferenza ma anche la voce di Padre Pio invece come rivista è nata subito dopo la morte di Padre Pio quindi nel 70 e anche lì c'è la raccolta completa sia da quanto è nata fino ad oggi. Oltre ad avere in biblioteca l'eco della stampa che ha raccolto un po' tutti gli articoli che sono stati scritti su Padre Pio, pensate dal 1919 fino ad oggi, il primo articolo risale al 1919 dove già chi ha scritto quel piccolo trafiletto lo chiamava Santo Padre Pio. Caspita, la cosa bella e importante è che tutti questi documenti si possono visionare avendo accesso alla sala di lettura Padre Pio che è su Viale Cappuccini ma ci dirai tu con esattezza. La sala è aperta al pubblico tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il sabato 8.13, di pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30, questi sono gli orari di apertura, logicamente i festivi infrasettimanali siamo chiusi, chiunque può accedere tranquillamente non è necessaria registrazione e schede quindi consultare tutto ciò che è regolarmente schedato quindi è a disposizione delle persone. E mi piace sottolineare che l'accessibilità è anche come dire facilitata a chiunque perché l'ingresso si trova sul piano stradale e per scendere nella sala di lettura c'è un ascensore, quindi chiunque può fruire di questo ricco patrimonio per avvicinarsi ulteriormente alla figura di Padre Pio. E come dicevamo è proprio grazie al lavoro di Antonio e alla sala di lettura che oggi possiamo riappiatuffarci in questa bellissima pagina di storia. La regia di Luigi Martino e Roberto Viscio ci stanno mostrando nuovamente l'attestata del numero 12 del periodico La casa sollievo della sofferenza uscito per coprire diciamo la doppia settimana dal 16 al 30 giugno 1964. E ha il titolo, questo titolo che leggiamo, riconoscenza a Padre Pio. Un Padre Pio che vediamo affacciarsi dalla finestra del matroneo della chiesa antica con un'espressione particolarmente seria. Ma ecco io mi prenderò qualche minuto per leggervi le parole di Gerardo Leone che ci racconta questo episodio. Quindi ecco restate con noi, entrate con noi in questo momento, in questa pagina di storia seguendo quello che ci scrive Gerardo Leone. San Giovanni Rotondo, 6 giugno. C'è stato un momento nel corso della manifestazione di Sorella Radio in cui ho creduto che Padre Pio non si mostrasse in pubblico, che rinunciasse ad affacciarsi alla finestra del vecchio coro, già spalancata e con un microfono piazzato in attesa di lui. E' stato quando la trasmissione volgeva verso la fine e non si attendeva ormai che lui, Padre Pio. Ma Padre Pio tardava ad arrivare, o almeno così sembrava. C'è stato quel lungo istante in cui ho temuto che la grande umiltà sua sopraffacesse ogni altra considerazione. In fondo, tutto quello che nel caldo pomeriggio estivo accadeva sul piazzale del convento riguardava soltanto lui, Padre Pio. Era lui il perno di tutto, di tutta la poderosa iniziativa di Sorella Radio, che voleva esprimergli ufficialmente la gratitudine per tutto quanto egli fa per le anime e per il sollievo della sofferenza. Era tutta per lui la festa di oggi, Padre Pio lo sapeva. Glielo avevano detto all'ultimo momento. Gli avevano annunciato che la RAI gli avrebbe conferito la stellina d'oro della riconoscenza. Anche la folla naturalmente lo sapeva. Ne avevano parlato i giornali, l'aveva annunziato il sindaco di San Giovanni Rotondo a mezzo di uno dei suoi manifesti dal sapore di proclami. E tutti avevano risposto senza riserve, affluendo a migliaia sul piazzale del convento. Lo acclamavano, lo chiamavano a gran voce e tutto nel sole ancora caldo sembrava orbo senza la sua presenza. Finalmente Padre Pio è apparso. Si è delineato nello stretto vano della finestra, sullo sfondo nero in cui si intravedevano appena poche figure di frati. E certo, egli, nella sua umiltà, avrebbe voluto essere in quel momento mille miglia lontano da quella folla esultante, riluttante com'è a qualsiasi attenzione verso la sua persona. Ma ancora una volta aveva obbedito al dovere. Il dovere di non deludere i suoi figli. Il dovere di secondare il bene placido che i superiori avevano dato all'iniziativa di sorella radio. Pio, gli applausi sono cessati, un bambino è salito sul palco, il palco di sorella radio, drappeggiato a festa. Un bambino ricoverato nella casa sollievo della sofferenza che ha rivolto a Padre Pio un breve indirizzo ringraziandolo a nome di tutti gli ammalati della casa e di tutti quelli anche lontani per i quali egli prega. Padre Pio lo ha ascoltato con attenzione. Il ragazzo ha finito di parlare e il dottor Fucile, direttore di sorella radio, si è proteso verso Padre Pio nel vano angusto della finestra, quasi facendosi più piccolo per la trepidazione. Gli ha appuntato sul petto la stellina della riconoscenza, quella stellina di cui si è recentemente insegnato anche Don Alberione, il fondatore dei Paolini. La folla applaudiva. Il dottor Fucile ha baciato la mano a Padre Pio, poi le sue lunghe ansie si sono sciolte in un abbraccio che Padre Pio ha fraternamente scambiato con lui. Lo speaker ha annunziato che Padre Pio avrebbe recitato l'Angelus assieme alla folla. Si è udita la voce della piccola campana del convento, un microfono è stato accostato a Padre Pio e lui ha detto, beh, adesso diciamo l'Angelus. Terminato l'Angelus ha tracciato un gran segno di croce sulla moltitudine e ha poi detto, ringrazio tutti, presenti e assenti. E ancora, siate sempre dei buoni cristiani. Siate dei buoni cristiani, ecco quanto gli stava a cuore, ecco quanto egli desiderava da quella folla venuto ad acclamarlo. Questa era la sua aspirazione costante, questo è lo scopo di tutta la sua vita, di tutto il suo lungo ministero. Abbiamo voluto leggere queste parole che sono state prese, ecco le ostre alciate dal lungo articolo di Gerardo Leone perché ci fanno rivivere davvero quel momento in maniera estremamente vivida. Tra l'altro, come dicevo in apertura, quel bambino che gli indirizzò quel saluto iniziale era Pier Giorgio Gerbin, che vediamo in questa foto insieme ad uno dei presentatori e che oggi ha 70 anni, che siamo riusciti a rintracciare, caro Antonio. Oggi è un professore universitario che però oggi per motivi istituzionali non poteva essere con noi, quindi abbiamo avuto anche questa piccola soddisfazione di trovare un testimone diretto di questo evento che ci auguriamo di ritrovare presto. Un altro testimone di questo evento, cara Maria Pia, è un personaggio che non è umano, è il vecchio Olmo, quel vecchio Olmo che ancora oggi è presente sul Sagrato. E Maria Pia, io vorrei che tu leggessi questo stralcio che è altrettanto bello, è molto evocativo, mentre la regia sicuramente ci porterà con la camera sul Sagrato di Santa Maria delle Grazie. Dunque, Tony, non ho capito da dove, evidentemente faccio io. Il vecchio Olmo. Ah, tutto il pezzo, bene. Cose di quassù. Qui è tutto in diretta, ragazzi. Voglio intanto ricordare anche che è un particolare grazie che dobbiamo anche alla RAI, sono 100 anni dall'inaugurazione della radio e 70 anni della TV, quindi è davvero un collegamento, diciamo, ideale, quello tra Padre Pio e la RAI, che in qualche modo noi in tante collaborazioni possiamo proseguire. Il pezzo, eccolo qua, cose di quassù, il vecchio Olmo. Davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, o meglio, alle chiese che portano questo titolo, o che sono a fianco, una piccola e antica, l'altra grande e moderna, vi è rimasto poco di quel che era questo luogo in origine. I capuccini sono soliti costruire i loro conventi in luoghi solitari e remoti. Così doveva essere San Giovanni Rotondo quando fu costruito in modo solido e rozzo il loro conventino nella roccia brulla del gargano soleggiato. Ma solitario, romito e selvaggio era anche quando Padre Pio venne qui per la prima volta. Di quel tempo, a voler essere sinceri nella ricerca, vi è rimasto ben poco. Perché sono state le trasformazioni della vecchia chiese, dell'antico convento, ma alcune ci sono state, se non altro, perché la luce elettrica è intervenuta a mutare l'aspetto primitivo. E qui scrive, devo dire che mi sono accorta adesso, tutto, ripeto, tutto all'impronta, mi ha fatto fare il carissimo Toni e Monsignor Giancarlo Setti, un grandissimo amico e testimone appunto della vita di Padre Pio, come Antonio Villani ci potrà anche confermare e sicuramente raccontare meglio di me. C'è una sola cosa che è rimasta così come era allora. Davanti quasi alla porta del conventino un olmo vecchio, centenario si dice. Un albero modesto, semplice, rozzo, ma solido e robusto. Sono passati sopra di lui e intorno a lui tanti temporali e l'ha ricoperto a lungo la neve e l'ha bagnato la pioggia, tenera e delicata. Il sole l'ha fiaccato con il suo calore d'estate, ma lui, il vecchio olmo, è rimasto, modesto e semplice, ma solido, robusto e fedele. Grazie, grazie Maria Pia. Ci faceva piacere celebrare anche quest'olmo che è ancora lì presente sul sagrato, come avete potuto vedere attraverso la webcam che in tempo reale attraverso la regia ce l'ha restituito. Bene, come detto, tutto questo è stato possibile grazie al prezioso lavoro di Antonio Villani, responsabile della libreria Padre Pio, che è proprio accanto alla nostra sede. Antonio, prima dei saluti finali, come nasce questa sala di lettura? La biblioteca è nata nel maggio del 1990. La richiesta... C'erano un'enormità di turisti che arrivavano a San Giovanni Rotondo che spesso andavano da padre Gerardo di Frupe, all'epoca vice postulatore della causa di pianificazione e canalizzazione di Padre Pio, quindi lui non aveva molto tempo e quindi pensò di istituire questa biblioteca per dare la possibilità ai turisti e non solo ai turisti di poter poi accedere a tutte le pubblicazioni e quindi fare ricerche su Padre Pio. La biblioteca poi negli anni si è evoluta. Nel 2004 sono stati fatti questi nuovi locali che avete fatto vedere prima e esattamente è stato inaugurato il 9 giugno del 2004 questi nuovi locali con l'epoca responsabile della sala di lettura che era padre Francesco Colacelli e quindi abbiamo anche per rendere gli ambienti più confortevoli, più agevoli per chi ci veniva a trovare. Molto bene, grazie di cuore Antonio. Grazie a voi. Noi vi aspettiamo quindi a San Giovanni Rotondo nella sala di lettura Padre Pio su Viale Cappuccini accanto alla sede della radio. Ne approfitto per ringraziare anche Giulio Russo che ha realizzato le immagini che abbiamo visto prima e per ringraziare ancora una volta te per il prezioso lavoro che svolgi ogni giorno. Grazie per essere stato con noi. Speriamo di ritrovarti presto. Va bene. Saluto anch'io Antonio, sempre accogliente. Grazie. Ricordo una bella ricerca che ho potuto fare grazie a lui quando sono stati 50 anni della morte di Padre Pio. abbiamo prodotto i video Una morte che fa notizia. Li trovate ancora su YouTube e proprio è stato meraviglioso fare un tuffo lungo, prolungato in mezzo a tanti giornali che testimoniano quegli anni, quei tempi. Grazie Maria Pia anche per questo ricordo. Ora linea alla regia. Ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.